C'è un altro cadavere in un appartamento del centro. Stesso assassino. Le ha tagliato la gola con freddezza, la messa in scena è precisa. Dai Pirenei al Reno. Strani omicidi richiamano leggende ancora vive. L'assassino portava i guanti, nessuna traccia sulla vittima. Ma l'apparenza non è sempre un valido indizio. Per un luogo, un delitto, in prima tv assoluta. Delitto a cognac. Martedì 21.10. Top Crime.